salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi faremo la prova del film x8 con il nuovo film rilasciato circa il 20 di settembre se non ricordo male quindi faremo questa prova in questa location fantastica che è il lago di oggiono provincia di lecco però prima sempre qua sulla sponda del lago c'è da fare un lavoro ragazzi cercare la zucca ideale per lui quindi adesso cercheremo la zucca o meglio mia figlia cerca la zucca ideale la colorerà perché veramente un posto veramente interessante che da questo punto di vista adesso vi faccio vedere guardate ragazzi tutti che cercano la zucca e poi la decorano ovviamente anche mia figlia cercherà la sua zucca la decorerà però dopo ragazzi faremo volare il film x8 qua sul lago con l'ultimo film è disponibile del film x8 quindi adesso ragazzi cerchiamo la zucca la decoriamo e poi decolliamo con il film x8 il film x8 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.